Arriva l'autunno, tra pochi giorni non siamo ancora in autunno, siamo alla fine dell'estate, gli ultimi scorci di questa meravigliosa stagione estiva, però presto arriverà l'autunno. In autunno cadono le foglie, gli alberi divengono spogli, ci si prepara al letargo. Poi vi sarà l'inverno e poi vi sarà un nuovo risveglio primaverile e una nuova estate. Questo è il ciclo naturale delle stagioni, le quattro stagioni che ben tutti noi conosciamo, così come esiste il ciclo naturale di vite, morti e nascite. Così come esiste il ciclo naturale del susseguirsi dei mesi, degli anni, dei giorni, dei minuti, delle ore. Così come ci si sveglia e ci si riaddormenta, è un ciclo anche quello, giorno e la notte. L'essere desti e dormire, privi di coscienza, pur sognando. L'universo ci spiega che tutto è ciclico, vi sono dei cicli, e i cicli hanno un inizio e una fine. Ben altra cosa è l'eternità. Noi non possiamo, nel modo più assoluto, comprendere l'eternità se rimaniamo rinchiusi nel modo razionale di ragionare della nostra forma pensiero. Perché la nostra forma pensiero è basata sulla ciclicità. Adesso, dopo, prima, durante. ma tutto questo noi inconsapevolmente lo traduciamo come se fosse una cosa di cui farsene carico o atto per sempre, ma in realtà è comunque noi la mettiamo una cosa ciclica. Ok? Questo cosa vuol dire? vuol dire che non ragionando sulla ciclicità innanzitutto diventa al di là del discorso che poi diventa difficile capire l'eternità ma magari il discorso dell'eternità alla fine non interessa a tutti perché vi sono persone che non credono giustamente nell'eternità. e io rispetto il loro credo anche se io ci credo ma rispetto il loro credo ma il ragionare sulla ciclicità comporta di fatto una maturazione un'elevata maturazione adesso stiamo vivendo un momento tragico dal punto di vista culturale dal punto di vista delle libertà dal punto di vista della democrazia dal punto di vista sociale dal punto di vista di una salute dittatoriale imposta in una dittatura sanitaria imposta ma questo è ciclico cioè non sarà per sempre prima o poi o per nostra volontà o non per nostra volontà nel senso che ci penserà la natura ci penseranno gli effetti ci penseranno le le cause effetto ma questa assurda vicenda dovrà finire o in un modo o nell'altro o bene o male questo dipende da noi ma dovrà finire che non è eterna è ciclica così come ciclici sono stati tutti i periodi dittatoriali e i peggiori governi dittatoriali quindi il punto non è tanto cosa succederà in futuro perché non lo sappiamo il punto è come predisporci perché proprio la nostra disposizione predisposizione che ci porterà ad avere un determinato futuro anziché un altro ad avere un determinato periodo ciclico basato in un certo modo perché noi possiamo costruirlo ma se chi arriva dopo di noi non lo porta avanti diventa poi un problema ciò che noi avremmo costruito decadrà infatti a cosa è servito il fatto che i nostri nonni si siano fatti ammazzare in cambio della libertà a poco o nulla perché noi tanto ce la stiamo giocando tutta quindi è un sacrificio apparentemente inutile perché noi pur di non privarci dei nostri piaceri sottostiamo a qualsiasi tipo di ricatto e dittatura l'importante è avere una casa lo stipendio una vacanza garantita un'automobile uno smartphone un computer il poter andare ai centri commerciali e il poter fare ciò che ci desidera poi al bar siamo bravi a parlare di dignità di condivisione di spirito ma di fatto a parole facciamo tante cose ma con i fatti ne facciamo poche e siamo anche comprabili molto facilmente e ricattabili molto facilmente leggevo proprio settimana scorsa un libro un pezzo di libro che non è ancora pubblicato un amico è venuto a farmi vedere ciò che ha intenzione di pubblicare e vi erano delle bellissime righe su questo libro dove si diceva che ormai non sappiamo più cogliere quando andiamo a vedere qualcosa di bello cogliere in meditazione ciò che vediamo e scattare la fotografia con la voglia al di là della fotografia non di imprimere nella mente ciò che noi andiamo a immortalare ma la prima cosa è fare la foto per metterla su Instagram su Facebook sui social in generale per condividerla con gli altri come se gli altri fregasse qualcosa di quello che stiamo vivendo noi è una nostra illusione è un nostro piacere illusorio ma gli altri di quello che stiamo vivendo noi in quel momento non gli frega niente potrebbero limitarsi a dire ah che bella foto non è che finisce lì e questo amico scriveva delle belle cose peccato che poi lui è uno dei primi che condivide e pubblica e quindi non ha non mette in pratica quello che in realtà sente e perché non siamo capaci di mettere in pratica quello che noi sentiamo dentro perché siamo diventati degli incapaci di gestire la nostra personalità cioè siamo influenzabili hanno indebolito se non distrutto il nostro libero arbitrio che ci fanno credere esso sia esistente però però noi non siamo più capaci di usarlo noi dobbiamo davvero nuovamente imparare dall'universo dalla natura e scrutare la ciclicità è importante questo perché se io so che tra un minuto sentirò delle cose diverse nuove che mi daranno altre informazioni rispetto a ciò che ho sentito un minuto prima scopro una cosa meravigliosa che tutti coloro che professano di avere in tasca la verità sono dei falliti in partenza quando ti dice ti sto raccontando la verità sei un fallito escludete da quella persona ti sto raccontando quello che ho imparato dalla mia esperienza allora il discorso cambia perché tu porti la tua esperienza con la tua percezione e le tue capacità molti potranno dire ma vabbè ma chi ha scoperto cose importanti certo hanno portato la loro esperienza hanno scoperto le cose importanti ma queste cose importanti che fanno parte della nostra storia potrebbero essere potranno essere in futuro o migliorate o modificate la ruota è una cosa importantissima però è anche vero che chi è arrivato dopo ha scoperto anche come volare grazie agli aeroplani quindi si va avanti oggi si dice che determinate cure determinati modi di procedere siano l'unica via di salvezza per ora ma non sappiamo cosa si scoprirà tra qualche anno la sperimentazione è naturale è abbastanza naturale le cose funzionano perché qualcuno ha deciso di provarle o comunque di essere di fare da cavia e il punto dolente di tutta la faccenda è che nessuno si rende conto di essere una cavia in determinate situazioni perché se io devo essere una cavia in un momento ciclico posso anche volerlo fare ma posso anche non volerlo fare è una mia libera scelta perché tanto questa cosa passerà e ma se tu non ti comporti in un certo modo puoi creare delle problematiche agli altri in determinate situazioni questo è vero in altre no noi stiamo vivendo una situazione assurda per due motivi perché non sappiamo guardarla con ciclicità e perché la guardiamo con ignoranza basandoci su tutto quello che ci dicono non essendo capaci di informarsi e mettendo da parte tutto quello che noi quelle poche banali cose che noi sappiamo in cambio dell'entrata libera dell'infarinatura di ciò che ci danno i media e gli esperti del sistema guardate che gli esperti del sistema non fanno il vostro interesse fanno il loro interesse e allora visto che cadono le foglie senza farla troppo lunga poi chi vuole farla lunga mi scriva pure a evolutore chiocciola gmail punto com io spero che cada un po' di quella vostra coltre di ipnotismo mediatico da cui vi siete fatti seppellire e che cominciate a fare funzionare il vostro pensiero e il vostro cervellino atrofizzato non tanto cercando la contraddizione di ciò che vi viene detto dalla comunicazione mainstream dalla comunicazione mediatica ma cercando mediante il vostro ragionamento e delle piccole nozioni che avete di far quadrare la situazione provate a leggere anche dalle riviste scientifiche il lancet il british medical journal ve ne sono tantissime in rete provate a vedere gli stessi gli stessi dati dell'ema non continuare ad andare a vederlo dai nostri giornalai cartacei e televisivi e vi accorgete di due bellissime cose della ciclicità e di quanto vi stiano prendendo per il culo fantastico la lira ha fatto parte di un periodo storico quindi è stata una cosa ciclica perché poi qualcuno ha pensato di cambiarla ma ci era raccontata come cosa unica eterna quindi il ciclico cosa significa significa che non è scontato e che non è vero che sia così ma significa che è variabile perché varierà ma anche che è variabile perché io la posso variare e posso mutare la sua variazione a seconda delle mie scelte che saranno cicliche perché poi qualcuno magari le cambierà imparate a ragionare a capire il senso di ciò che dite a far sì che le vostre parole abbiano un senso ma non tanto per gli altri ma per voi stessi che siano legate alle vostre emozioni a ciò in cui voi davvero credete perché se legate quello che dite al vostro credo il vostro credo acquista molta più forza e voi aumentate di molto le vostre capacità se invece continuate a legare ciò che dite a quello che sentite diventate dei fantocci nelle mani di chi vuol farvi credere i propri racconti quando leggi un libro se sei un buon lettore ti immergi nella storia cioè quella storia diventa tua però sai benissimo che stai leggendo quel libro sei in quella storia grazie a quel libro e quando chiudi quel libro quella storia finirà perché stai leggendo la storia di un altro il punto è che noi invece subiamo l'influenza mediatica come se fosse la nostra storia e non ne usciamo più perché quel libro è sempre aperto perché è sempre aperto il giornale perché è sempre aperto la tv la radio e invece non deve essere così quel libro noi lo possiamo anche chiudere e aprirne altri o scegliere di quel libro le pagine che ci piacciono e farne tesoro questi sono solo alcuni spunti che vi do poi se volete approfondire scrivetemi e sicuramente vi posso dare delle risposte più mirate è tutto per oggi se vi è piaciuto questo video bene mettetemi anche un like iscrivetevi al canale e se non vi è piaciuto chi se ne frega andrà meglio il prossimo buona vita